Rangers Corigliano, Sporting Caloveto, 3-0, ultima giornata di campionato. Siamo con Mr. Bernardo, allenatore dello Sporting Caloveto. Mr., nonostante la posizione che ricoprite, nonostante era una partita dove voi avevate pochissimo da chiedere, avete fatto comunque un bel viaggio e avete onorato il campionato. Sì, diciamo che è una partita di fine stagione, la classica partita di fine stagione per noi. Per loro invece è una importanza fondamentale perché comunque devono fare i play-off. Comunque complimenti ai Rangers di Corigliano, una bella squadretta che mi auguro vincano i play-off. Quando riguarda noi siamo venuti rimaneggiati come le ultime 5-6 partite di campionato perché ormai non dobbiamo chiedere più niente al campionato, quindi l'entusiasmo è venuto da scemare. Però lo stiamo onorando in maniera adeguata perché ci presentiamo a tutti gli appuntamenti e giochiamo a testa alta, usciamo da tutti i campi a testa alta. 11 uomini che però hanno combattuto pallone su pallone e non hanno regalato nulla. I gol sono arrivati, sì, forse è più motivazione come diceva lei, anzi sicuramente è più motivazione per quanto riguarda i Rangers. Però i suoi, nonostante tutto, nonostante 11 uomini, nonostante il campionato ormai finito per voi già da qualche settimana, avete comunque non reso molto semplice la vita ai Rangers di Corigliano. Sì, sì, i gol sono venuti poi per errori individuali, dovuti anche alla stanchezza perché, faccio una premessa, la mia squadra, non so se faccio ben a dirlo, è da novembre che si deve allenare perché, torno a ripetere, dopo le prime giornate di campionato, comunque, se avevamo l'antazzo del campionato, si è venuto a scemmare un bel entusiasmo e quindi, senza allenamento, dopo un quarto d'ora, comunque, in questi campi un po' più grandi, si sente la mancanza di fiato e quindi il risultato ha preso questa piega. Comunque, torno a ripetere, errore individuale, la squadra, in sé per sé, ha giocato pure bene per quelli che eravamo, poi comunque la possibilità di fare un cambio non c'è, quindi è inutile. Le forze quelle sono, arrivi al cinquantesimo, al sessantesimo che non ce la fai più, è normale questa, è normale.